Con apprensione e sentita preoccupazione che leggiamo le dichiarazioni di Ignazio Cutrò sulla stampa in cui dichiara di voler fuggire dal territorio per le difficoltà della sua condizione. E' quanto fa sapere Francesco Giambrone, presidente di Confartigenato Agrigento. Il comunicato di Ramato segnala una preoccupante situazione di silenzio. In una provincia già povera di lavoro, avara di iniziative e dura con i nostri imprenditori, è impensabile perdere un simbolo della lotta contro la mafia come Ignazio Cutrò sostengono alla Confartigenato. Il prezzo sociale da pagare sarebbe troppo alto, torna a ripetere Giambrone, che aggiunge è gravissima la situazione che leggiamo dell'imprenditore Cutrò dopo l'ennesimo taglio della luce del gas. Rischiamo che gli si porti via anche la speranza. Ci appelliamo alle istituzioni che in maniera forte e celere diano risposte e soprattutto soluzioni.